Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e bentrovati per questo nuovo appuntamento uscita numero 25 di questa leggendaria utilitaria francese Citroen 2 cavalli Charleston edizione De Agostini scala 1 a 8. Andiamo subito a vedere cosa abbiamo all'interno di questo fascicolo numero 25 nei cerchioni non sono il massimo è perché vi dico la verità io ne ho già fatti sostituire due me li hanno sostituiti senza problemi perché hanno visto il difetto adesso qua abbiamo una brutta verniciatura ma meno male che va la gomma sopra e quindi chi se ne importa qui abbiamo un po' un segno ma vedremo dai allora comunque abbiamo un cerchione pesantissimo come gli altri del resto che ho già pesato se guardate i video precedenti non si vuole aprire una serie di viti mm che sono destinate ad essere vitate sul metallo ma non ci serviranno in questa sessione di montaggio quindi le conserveremo le metteremo nel blister del cerchione così ecco qua e poi abbiamo il freno a tamburo posteriore che è in plastica prendiamo il copertone che abbiamo trovato nell'uscita precedente guardiamo le scritte quelle che sono marchiate meglio le useremo ecco questo è il lato più bello questo in effetti se lo guardiamo è un po' rovinata la scritta Michelin questo meno male che è perfetto ecco questo ovviamente lo metteremo dalla parte esterna il cerchione la gomma chiedo scusa la gomma è molto dura perché l'hanno fatta dura perché il modello essendo molto pesante parliamo dai 5 ai 6 kg col tempo si ovalizzerebbero tutte le gomme così non dovrebbe accadere anche se come ho già detto in un video ricordatevi che una volta che andrete ad esporre il vostro modello tenetelo sospeso sotto con qualcosa che poi vedremo in seguito affinché ci possa anche solo passare un filo di carta sotto ma che non tocchi le ruote per terra così negli anni comunque non potrà subire deformazioni andiamo avanti io come avete già visto nelle altre fasi di montaggio uso un foam per capelli per scaldare allora abbiamo detto che la parte più bella è questa ricordatevi che vi sconsiglio di inserirlo dalla parte bella ma sempre dalla parte posteriore così se andrete a segnare la gomma non si vedrà e rimarrà la parte a vista perfettamente bene bella andiamo quindi a scaldarlo perfetto così inseriamo prima così all'interno e poi procediamo fatelo entrare anche di qua così vedete così avrà più spazio per entrare dentro lo lavorerete meglio se non dovesse bastare lo scaldate ancora un po' vedete lo inserite già all'interno così lui ha più spazio per muoversi da dietro ecco qua prestate attenzione alla corretta al corretto posizionamento del pneumatico sul cerchione non basta solo inserirlo guardate che sia perfettamente inserito e tutto alla stessa altezza perché non è una cosa così semplice dovete fare attenzione perfetto ovviamente quando fate questo non vi fate male con la valvola qui perché se schiacciatevi potete anche bucare il dito va bene io direi che è finito mettiamo soltanto il tamburo da una parte all'altra non ci sono problemi perché i perni hanno lo stesso diametro quindi inseriamo uno qui lo giriamo al contrario e vediamo che si combacino i perni nei fori altrimenti li rompete quando siete sicuri di questo potete premere nella direzione dei perni cioè qui ecco fatto perfetto abbiamo finito il montaggio del fascicolo numero 25 ma che peso hanno queste ruote va bene adesso andiamo a fare la seconda parte del video dove vi farò vedere una rappresentazione di quello che abbiamo montato fino al numero 25 e nella terza e ultima parte del video consentirò a chi lo desidera di dare visione lettura all'interno del fascicolo ci vediamo dopo ragazzi ed eccoci qua guardate che spettacolo che bello abbiamo tutte e quattro le ruote ci mancano solo le tre borchie e abbiamo completato anche quindi poi le ruote il motore praticamente tutti metallo fatta eccezione per i dischi le pinze e il filtro dell'olio queste gomma gomma e plastica tutto il resto metallo abbiamo la porta anteriore sinistra lato guida tutte in metallo cerniere in metallo con il vetro il finestrino basculante guardate che meraviglia questo il suo interno cofano anteriore in metallo parafango in plastica verniciato in maniera eccellente le ruote le abbiamo già viste il cruscotto in plastica con la chiave di accensione che è funzionante perché grazie a questo che vedete che in metallo permette il contatto all'interno e tramite questi due fili possiamo far funzionare sia le luci che l'accensione del motore quindi il sonoro la simulazione dell'accensione del motore grazie a questa scheda qui che fa tutto poi abbiamo il sedile tutto in tralicci di metallo come in quella vera con i ganci metallici da montare uno per uno con tutti quelli che vedete sotto che sono elastici la fascia centrale per irrobustire la seduta e lo schienale guardate che meraviglia tessuto vero bellissimo e poi il telaio tutto in metallo tutto in metallo sapete cosa c'è di plastica qui ve lo dico subito guardate tutto il resto che vedete in metallo di plastica c'è questa 1 e 2 questa che abbiamo messo sopra qui e questa tutto il resto è di metallo va bene ragazzi adesso procediamo alla terza e ultima parte di questo video e grazie sempre della vostra visione e di seguirmi ed eccoci pronti per l'ultima parte di questo video uscita numero 25 edizione di agostini scala 1 a 8 citroen 2 cavalli charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese andiamo subito così da potervi permettere di dare lettura e visione di questo splendido nuovo fascicolo seconda pagina di copertina numeri utili e servizi buona lettura ragazzi e tra una riga e l'altra non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale se ne avete piacere di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video date anche un'occhiata alla mia playlist dove potrete trovare altri modelli spero sempre di più e ricordatevi che proprio perché il canale di michele non è un canale che si limita al solo montaggio ma è nato proprio per mia scelta per poter aiutare le persone che hanno più difficoltà nel montaggio di questi modelli così da stimolarvi all'acquisto e donarvi una cosa bellissima e preziosa quali sono questi modelli e per questo motivo ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue proprio per permettere a chiunque non soltanto di comprendere le immagini ma ovviamente anche comprendere i miei discorsi quindi i miei contenuti verbali io non smetterò mai di ringraziarvi per il sostegno che mi date per il supporto che mi date con le vostre iscrizioni visualizzazioni commenti perché è molto importante anche socializzare a me piace molto la chiamano community io la chiamo comunità sociale siamo in italia questo anche è molto importante guardate se avete piacere speriamo che oltre a me ci sia almeno ancora uno che mi stia guardando e questo sarebbe per me motivo di contentezza perché mi basta sapere che c'è anche una persona che ci crediate o no che mi stia guardando per spingermi a farlo per chi non vuole basta spegnere il video e andare avanti oppure andare avanti però sapete che io non ho una scaletta precisa per cui le notizie e non lo dico per tenervi incollati ai miei video lo dico perché è la verità io quando mi viene in mente qualcosa da dirvi ve la dico che può essere interessante ai fini del montaggio e se ve la perdete che posso farvi ragazzi abbiamo quasi finito mamma guardate questa una rosalie degli anni trenti in azione l'immagine risulta leggermente le è formate a causa dei limiti tecnici delle macchine fotografiche dell'epoca spettacolo sto cercando di girare l'ultima pagina ecco qui la stessa macchina che avete visto prima ecco anche questo è importante guardate sono delle piccole cose ma grandi cose ed ecco fatto come direbbero i francesi e voilà abbiamo finito anche questo ultimo fascicolo numero 25 Michele vi ringrazio del vostro tempo grazie davvero ragazzi ma grazie davvero davvero ve lo dico molto onestamente pochi di voi mi conoscono con qualcuno già mi sento mi fa molto piacere grazie grazie a questo ho conosciuto tre persone e spero sempre di più veramente come posso dirvi adorabili almeno nei limiti di quello che è stato il nostro rapporto telefonico però ecco con questo voglio soltanto dirvi che grazie a questo ho modo di conoscere persone veramente che diversamente non avrei potuto conoscere ecco quindi è importante per me dirvi grazie perché chi pensava di poter arrivare dove sono arrivato ma chi l'avrebbe detto io certamente no anche perché lo vedete i miei video sono quelli che sono sono i contenuti forse anche se spartani che vi possono essere utili però io vedo video di persone che fanno altro che i miei cioè video editing delle immagini bellissime delle belle sigle delle belle copertine ecco io non sono in grado di fare niente di tutto questo ancora e sto registrando con un Samsung J6 da 90 euro e sono già felice di avere questo e con questo capite che sono riuscito ad arrivare dove sono arrivato grazie a voi che avete apprezzato quello che ho fatto fino ad oggi e mi auguro che possiate sempre trovare in Michele in futuro una persona onesta corretta che dice quello che sa di poter dire e si ferma dove non riesce ad avere voce in capitolo ecco quindi grazie di tutto ragazzi un abbraccio a voi a tutti i vostri cari più cari e appuntamento al prossimo video ciao ciao